Ma quello di fianco non si accorge di nulla, no eh Va bene che sta lavorando, ma è un po' troppo preso nel suo lavoro Così non barricherete un caspio Ah, allora è un piccolo, bravo Vatman Vatman che cosa succede? I matti stanno avvicinandosi al centro medico Nice Cercando di assumere il controllo dell'isola un pezzo alla volta, a quanto pare il centro medico è il prossimo bersaglio È uscito qualcuno dall'edificio Ho visto un medico che cercava di uscire, è stato ridotto a brandelli e buttato in acqua, non ha potuto fare niente Su aspetta qui, torno subito Gesù santo Sto guardando i cartoni Se qualcuno degli starmi di brecchie si annoia, può venire a trovarmi Non guardate in alto quando aprite la porta Mi rovinereste la sorpresa e le smeriti Ciao Eh sì, mi han detto BOOM Nice Devo dirlo io più che altro Nessuno ha visto Batman? Parla come un idiota, ha l'aspetto di un idiota, ma non lasciatevi ingannare È veramente un idiota Ciao Arly Oh Gesù santo Ehi, levati Batman Adesso tocca a me Dov'è Gordon? Non vuoi saperlo? Sono qui Zitto Che cosa ci fa lui? È troppo presto Scusa Biscottino, non arrabbiarti con me Oh, sfacciatella Non riesco mai a tenerti Mi spiace Batman, dovrai trovare un'altra entrata Ciao ciao Ah, rompi falle Qui è bloccato, meglio uscire a cercare Su per i tetti, come solo Batman sa fare Già Ottimo Accesso di manutenzione Voglio che tutti i medici siano radunati Perquisite ogni centimetro dal centro medico Sono serio Controllate ogni stanza, ogni studio, anche i portali fiuti Se un altro medico tenta di scappare E di uscire dall'edificio, ci andate di mezzo a voi Sbloccherò con quei gas e sbrenate e mi lascerò morire E che cazzo, magari lo faccio lo stesso Io adoro il Joker Io adoro assolutamente il Joker Ma ha dei livelli che non sono normali, ragazzi Che se mi sembra di stare andando lontano da dove dovrei andare Però va bene Giù le mani Sta zitta e vai insieme agli altri Muoviti Ok, ok, ho sentito Vado Perché gli servono i dottori? Devo salvarli Che cosa fai? Qualcuno venga Ciao Ciao Io copro la porta Come fare Direi che Al momento Lui è il primo calcevolante Chi è quel pazzo che ha costruito questo posto? Non assomiglia a nessun ospedale Che io sappia Che cosa? Via di qua Ok Ok Ne abbiamo Uno, due, tre Sbaglioli sotto c'è qualcuno sotto stress? Mi batte forte il cuore? Beh, riprendete il controllo e fermate Vattano Ve la sistemo io per sempre la pressione sanguignata Nice Vabbè, io direi che quello lì È il prossimo per un calcevolante Yeah E tu Sei l'altro Su Tu Sei Il prossimo ancora È scomparso Io ho sbagliato nel nulla Boom La stanza è vuota Siete al sicuro Salve dottore Non so che cosa sia successo Stavamo facendo le ronde serali Quando alcuni uomini armati Hanno fatto irruzione nella stanza E ci hanno catturati C'era qualcuno con loro Hanno portato qualcuno in ascensore Ma non so chi sia È chiaro che non volevano essere seguiti L'ascensore è stato disattivato Qui non correte pericoli Andrà tutto bene E gli altri? Abbiamo sentito degli spari Potrebbero essere morti Andiamo ad aiutarli Oh no dimenticavo Il dottor Kellerman Era in sala osservazione Il dottor Chen È andato in chirurgia E la dottoressa Yang È andata in radiologia Ok restate qui Vado a cercare gli altri dottori Ottimo Ha salvati Batman Non pensavo che esistesse davvero Ti tiro fuori io di lì Andrà tutto bene Ok E come faccio ad aprire quello Un modo lo troveremo E va bene ragazzi Io chiuderò questa sessione di registrazione Sta abbastanza lunga Un'oretta e mezza Due Spero che questa serie vi piaccia Io sono quit O bat quit Da Il centro medico Di Arkham Asylum Ciao a tutti 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 Ciao a tutti